Adesso Tripilong, versione lunga del sentiero dedicato al compianto Fabio Lombardi, la terra che soviene. La terra che soviene. Compressione, compressione. La zona è umida, un po' masticata. Però, un nervio che è previsto. Bene, prima parte. Una volta il sentierino a 60 secondi, breve collegamento da quello che ho detto. Ed eccoci qua, ingresso Tripilong. La terra che soviene. 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 attenzione attenzione alla compressione attenzione 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 lo stato che fresco cambia un poco eccoci qua la fine